Vede cattivi, lo sai che in questo posto scende un sacco di gente Ah, il fonti è pieno, ce ne sono un sacco Eh, me lo immaginavo, allora devo vedere un'arma, devo inquadrare un'arma, devo inquadrare un'arma e scendere sull'arma Non vedo armi, non vedo armi, non vedo armi, non vedo armi nei tetti, non vedo armi nei tetti, non vedo armi nei tetti Qua ci sono solo munizioni, allora scendo direttamente E vado qua, beh, dove non ci sono porte Bravo, Steph, bravo, bravo, sono molto soddisfatto Feri, avvisami che non trovi qualcosa Ok, ok, però l'ho trovato solo un succo Che non so cosa mi possa servire, Steph, in questa situazione Perché probabilmente gli altri già sono con i fucini Allora, ho uno scudo e una mitraglietta Ok, ok, quindi va bene, dai Vado Sono dietro di te, quindi fai attenzione Beh no, sei un po' distante Più o meno Vado in questa torre, sperando che non ci sia nessuno Sento gente Ok Sopra di me Ammazzali tutti Alla mia destra Uh, bello, bello, sai cosa ho trovato? Aha Uno scalel viola, in una stanza, così, a casaccio Anche se non so dove spara Ok A terra, a terra, l'ho buttato giù Uh, uh Prendili il fucile, prendili il fucile, Steph Sapevo che aveva quello Eh, sì Occhio, 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 occhio Dove? Respira Ok Sta arrivando qualcuno Ho paura Sento anche una cesta Non importa Ho l'ansia Lo so Ma da dove? Da qui sotto, da dove? Ma da dove? Cioè, non gli ho visto fare le scale, Steph Vabbè, riportami su, riportami su Ma stiamo scherzando Cioè, secondo me è apparso dalle scale Non so che dirti È stato stranissimo Io stavo puntando la porta, oltretutto Perché pensavo arrivasse da una delle due porte Forse è andato troppo sneaky Basso, basso Non l'abbiamo visto salire Vabbè Però è andata bene Non ho parole Hai delle cure? Ho il succo No, aspetta, 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 aspetta Ma anche quello mi ricarica un po' di vita E lo so, ma tieni Grazie Ok Ah, faccio un po' e un po' Allora, abbiamo ammazzato un team, Fere Ma secondo me ce ne sono ancora altri, eh Sì Sono d'accordo Quindi stiamo attenti Allora, vado qua C'è una chest Perfetto Ok Niente di che, Fere Ah, perché mi dice che la posso riprendere? Intanto si bugga la nostra chest Ok, allora Qua non c'è altro, giusto? Non mi sembra di sentire altri rumori Ok Vedere player dall'alto Mi sa di no Ok Il problema è che io non ho ancora un pompa Tu? Neanch'io, ho trovato solo Però sentite rumori Ok, solo lo scale e il viola, volevo dire Aspetta Dove? Dove? Non lo so Ok? Non ho idea Andiamo 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 Allora, resta a mitraglietta Ok Ok, andiamo qua Ok Attenzione, attenzione Eh no, vado dritto E siccome sei un po' troppo spedito Oddio, mi sembra di vedere qualcuno Cosa vuol dire? Non lo so Forse ho le allucinazioni Ti vuole mettere ansia? Eh non lo so Ogni tanto vedo cose che si muovono Ma forse hai detto che cambiavi arma Ok, sento una chest Nella torre qua sopra Ok Andiamo Dai qualcosa di bello Ma perché? Ma un po' di fortuna Munizioni te le rubo Un pompa Dateci un dannatissimo pompa Datecelo immediatamente Allora, scendiamo Non mi ricordo dove sono Tutte le celle Perché c'è un punto con tutte le celle Sì, è vero, è vero Però sinceramente io scendo davvero poco alla prigione Non me lo ricordo bene come luogo Beh, un posto folle Eh sì, esatto Uh, bella così Ok Improvviso, va benissimo Munizioni, bende Vediamo in questa stanzina qua Altre munizioni Vai al piano di sopra lì, Ferre Sì, sto andando, sto andando Perché sicuramente non hanno lutato Ok Ok, ho trovato il posto delle celle Non sembra lutato Vedo anche una bellissima trappola Ok Ok, magari possiamo fare la trappola di Steph, Ferre Magari può tornare Sarebbe bello, sarebbe bello La vorresti rivedere, eh? Sì, tantissimo Eh, quella è bella Allora, andiamo prima qui sopra Vediamo cosa trovo qui sopra E sei tu? Eh, sì, 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 sì Ho fatto tutto il giro e sono arrivata qui Allora, lì ci sono delle munizioni Quindi bisognerebbe prenderle Allora Qua nulla Qua nulla Qui cosa c'è? Ho visto qualcosa di verde Ho fatto finalmente il pompa E invece no Io di verde ho trovato solo una mitraglietta Niente pompa per Steph e Ferre Non ci posso credere Mi prendono in giro? Mi prendono in giro È una bella arma La mitraglietta È bellissima Non vedevi l'ora di trovare la viola Contro un pompa Non aveva l'ora di fare quel fight Guarda Allora, andiamo di qui Vediamo un attimino se troviamo qualcos'altro Lì sopra abbiamo fatto tutto Lì dove io avevo preso una cesta Credo che abbiamo fatto tutta la prigione Sì, sembra anche a me Abbiamo trovato un botto di roba epica Ma non un fucile a pompa Cioè, neanche bianco Neanche bianco Neanche bianco Neanche brutto Niente Niente di niente Vediamo se in questo camion qua c'è una cesta Eh, no, è di quelli chiusi Ah, peccato, peccato Dai, andiamo via dalla prigione Ferre Sembra tutto completamente lootato Andiamo a vedere se troviamo qualcos'altro da lootare Comunque alla fine c'era solo un team Sì Che ci siamo massacrati Quindi comunque È strano Pensavo che ce ne sarebbero stati di più Invece dai, c'è andata anche bene Sì Siamo partiti bene Adesso vediamo un pochino Perché comunque abbiamo poco shield Non abbiamo il fucile a pompa Quindi dobbiamo trovare un pochettino di cose Materiali ne ho abbastanza Ma non troppi Non so tu Io non ne ho praticamente raccolti Ho solo dieci di mattone Quindi non ho niente Ok, ok, ok Dovrò fermarmi anche a raccogliere quelli Allora, ho visto un po' di roba Sembra che non abbiamo lootato nemmeno qua nella zona del ponte Lo sai? Oh, bello E se ricordo bene C'è un punto per scendere dal ponte Ok Dove di solito C'è una cesta A parte che ce n'è qua una nel cofano direttamente Benissimo Oh, yes Ferre, le vuoi le mie bende? Sì, no, ne ho Anzi, sì, da me ne ho altre Dai, ascolta Ne ho 15 Facciamo così Sì, sì, sì Opla Comunque fucile da cechino, Ferre Ottimo Ma lì fa? Attento che ci caschi di sotto Eh, lo so, infatti non vorrei cadere Comunque lì c'è un'altra trappola E le trappole di Steph sono troppo importanti Quindi andiamo a prenderla al volo Però mi tengo un attimo armato Che altrimenti qua rischiamo Ok Quindi andiamo qui Facciamo così Facciamo Stavo per cadere Aiuto pure io Sento la cesta Sì Ok Sì, 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 sì L'ho sentita, Ferre, la senti? Sì Dove? Cerchiamo Eh, sai che non lo so Forse sotto? Sotto? Sotto la scala? Dici? Sì, è qui dentro È qui dentro Vieni Ok Vediamo cosa trovi Vai, devi aprirla tua A me sta andando male Ah, ok, ok, vai Fucile pompa Ma da No, vabbè, però ti puoi prendere lo shield Prenditi anche le munizioni Che tu ne hai poche Sì, un attimino Lo scambio con questo Perfetto Mi guardo un attimo intorno Lontanissimi dalla zona Ci tocca pedalare, Ferre Andiamo direttamente Corri, corri, corri Guardati ben intorno Perché secondo me Siamo vicini al trovare dei player Sì, probabile Oh, cavolo Che c'è? Ok, niente Mi hai fatto paura Non mi sono resa conto che c'era un dirupo Però per fortuna non ho preso l'anno Uno ti nomina player E tu ti sembra la cosa giusta Inizierà a urlare Eh, perché cavolo Mi sono resa conto quando ero già in volo Capisci? In volo è il dirupo Vai venire lì infatti a Steph Così muoio in real life direttamente E perdi la partita Bello, è divertente Vorrei sniperare qualcosa Ho voglia di sniperare Però in realtà ho anche lo scarell'epico Che mi piace un sacco Quindi non so con cosa sparerò Quando troveremo qualcuno Vediamo al volo se c'è qualcuno in questa casa Sì Nel senso Vediamo se c'è un fucile a pompa in questa casa Esatto Se hanno luttato Se magari è rimasto qualcuno Ho capito il senso Luttato mi sa di no Ok Mi sa proprio di no Anche munizioni Qua pritere tu Che ne hai molte meno di me Ok Ok Qua ci sono delle bende che non ci facciamo nulla Le vedi lì nella cucina? Sì 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 Ok sento anche una cesta Prendo anche quelle del pompa Nella speranza di trovarla Allora Prendo al volo questo Me lo bevo pure Che così almeno aumento un po' lo shield Perché tanto non ho spazio nell'inventario Per tenermi altro Qui c'è un pompa bianco Però di quello brutto No io non lo prendo Io l'odio questo Non riesco a spararci Sì ma poi comunque Un fucile bianco Con tutte le armi che ho Sinceramente non me la sento Secondo me fa davvero schifo In più è quello che neanche mi piace Dai bello Dobbiamo giocare senza pompa Oh vedo player Sopra quella collina nord est 42 gradi 48 se proprio dobbiamo essere precisi Ok Vabbè però raccorriamo Entriamo nella zona Perché fightare con noi che siamo fuori Ci farebbe perdere Eh però fai attenzione Perché secondo me come entriamo Quello ci prende Se ci vede Allora Oh di fronte a te Di fronte a te Di fronte a te L'ho visto Ok io l'ho colpito Occhio Morto Ok non mi aveva neanche visto Uh al pompa verde Prendi lo staff Eh mi sa che lo prendi tu fare Ok perfetto Va benissimo Corri 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 Oh cavolo l'avevo vista Ok eccomi eccomi Per fortuna eravamo dentro E non ho preso Fare players E lo vedi è quello che ti dicevo Ok E lui C'è anche gente che ci spara da dietro Ok Stiamo attenti Ci avrà visto Eh non lo so Secondo me no Secondo me no Dicevano C'è un cespuglio Lo vedi Eh no Da qui no Perché mi sono subito nascosta Maledizione l'altro L'ho colpito L'ho colpito una volta Però gli ho colpito lo shield Ok Allora ci serve Costruisci Costruisci tu che molti materiali Ok Dove ci sta prendendo Ok Abbiamo stato concentrati qua eh Ok gli ho tolto il cespuglio all'altro Ok Perfetto bravo Allora Occhio eh Perché uno comunque è a fucile da cechino mi pare Eh mi sa proprio di sì Dai colpi che ha tirato Mi sembra proprio di sì Ah Peccato Secondo me gli stava sparando qualcun altro Lo sai Ok l'ho colpito Brava 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 Quindi un po' gli ho già tolto Tolto vita Mi sto guardando intorno per capire se c'è qualcun altro Non era lo shield Mi sembra che ci sia gente da 330 Però al momento non li vedo Quindi pensiamo a questi Che dobbiamo fare Quanto siamo fuori da zona? Tantissimo Porca miseria Fere io corro un po' Ah è stupido è stupido Faitare qua eh Perché questi sono molto lontano Non ci stavano venendo addosso Che poi siamo solo in dieci Ovviamente ci dobbiamo trovare tutti di fronte Li senti a sinistra? Sì lo sente come? Uno l'ho appena visto morire Porca miseria Ok Quindi da dove l'hanno ammazzato? Ah non lo so Fere Non lo so Da dove l'hanno ammazzato? È difficile capirlo Dobbiamo andare? Addosso intendo Proviamo Eh proviamo Occhio eh Lo so Li vedi? Qui 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 Sì Uno a terra Brava L'altro è dentro L'altro mi sta colpendo No me l'ho colpito Uccisi Bravo Mi devi restare però Cavolo Dovevo ricaricare proprio in quel momento Fere non faccio in tempo restarti C'è la zona Vabbè Corri Vai 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 Pazienza No pazienza Vai 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 Scusami Fere Siamo rimasti in sette Ricordati Steph Mi hai assassinato Se vincerai non sarà una vera vittoria Per chi hai deciso di uccidermi Io te lo dico Di fronte a me Dimmi che non mi ha visto Cavolo è stato anche un bel fight Sì che mi ha visto Mi vuole sniperare quel maledetto Altro che Che morte brutta Quanti kill hai fatto tu? Due? Io tre siamo a cinque kill È un buon game E mi rompe morire così È tristissimo Cioè Se muori in un fight È una cosa almeno onorevole Ma sei morta in un fight Fere No perché adesso mi finisce la tempesta Perché tu hai scelto di non restarmi Quindi è colpa tua È colpa tua È lì che volevo andare a farare Fere ho cinque trappole Mi faccio una base fatta di trappole adesso Vai 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 No devi vincere Steph Siete solo in set Devi vincere adesso Sei concentrato? Riesci a vincere? Sono concentrato Ti sei eliminato da solo Ok Sono triste Oh Bravo Guarda quel cechino Lo vedi quel cechino? Sì prendilo Fai attenzione Siamo rimasti in cinque Ok leggendario Buono Vai Steph Credo in te Lo so Credo in te Lo so Ok mi prendo anche quest'altro medico Hai scelto di uccidermi Io credo lo stesso in te Allora Ok Ok Bella fortezza Aspetta Sono in due Ok Beh se tant'è meno di scilla un tipo è buono Ok Ok È molto 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 buono Dovresti costruire anche tu Li vedi? Suppongo Eh sì Ce l'hanno con me? No ce l'hanno con quelli di sopra Si stanno faiutando Perché mi sembra che stanno cercando di lanciare le granate lì sopra O le bombe Quello che stanno a tirare Ok Vedi Ok Sì 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 stanno portando di lanciare le granate lì sopra È molto buono È molto buono per Steph Occhio 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 Sì ho appena notato Attenzione ti prego È che devo sbirciare perché devo vedere costantemente le posizioni Allora Che ansia Eh ma ce l'hanno con me Ma porca Ma pensa Litigate tra voi due Così rimanete poi in tre Magari se ne muore anche uno Rimanete in due Capito Allora Fede non so Cosa sta succedendo in questo momento Non posso guardare perché sono a rischio Ok hai visto? Li vedi li vedi Sì 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 stanno faiutando Ok sono andati lì loro Ok Eh ogni tanto si gira e ci prova Sì Ma che poi non vedo Nicola dove Deve aver fatto una finestra Vero? Sì molto probabile Noi comunque se stiamo qua siamo sicuro Però Steph fai attenzione sono fuori dalla zona Lo so lo so ma ho un minuto Un minuto devo sbisciare Guardali 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 Sì li vedo Li potrei ammazzare come nulla Ma non mi servirebbe a niente Perché quelli sopra la Sopra la montagna Sono quelli avvantaggiati Sono quelli con la fortezza figa E hanno anche un'ottima visione Da lì in alto Al contrario di questi Che sono in terra come te No Stanno volendo a cercarti No Secondo me non ti hanno notato comunque Non venire non venire amico 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 Che ansia Perché devi andare lì amico mio? Non lo so però non ti hanno notato eh Vedi che non ti stanno a calcolare No vuole prendere quella casa Esatto vuole prendere posizione là Ma cavolo salite Fightate Fate qualcosa Non lo so Steph Non è una buona idea Cioè se fighto con loro perdo Sì 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 Perché Sì 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 Sono uno V4 praticamente Ok forse se ne sta andando No Stanno prendendo posizione lì Stanno accampando Steph Ascolt Buona idea Buona idea Devo agire Fere Altrimenti Eh ma adesso ti notano quelli Fai attenzione Lo so lo so lo so lo so Corri 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 Che sono tutti distratti qui Ecco qua Ecco qua Distratti dicevano Distratti certo Ma è molto sotto Non ti possono beccare lì sotto Cioè per forza di cose Eh ma rimango top zone E' quello il problema Lo so Fai il giro allora Non lo so Perché qui lì hanno tutta la montagna Quindi Lo so che hanno tutta la montagna Oh cavolo No Steph no Aiuto Che ansia Ok ho paura Lo ammetto Fai bene ad averne Fai bene ad averne Siamo ancora tutti vivi eh Quindi loro si stanno continuando a sparare E non succede nulla Uno l'ho appena visto lanciarsi con il trampolino Ah sì io l'ho visto Quindi probabilmente stanno andando all'assalto Steph eh E' una buona cosa Mi avvicino Tu sei dentro Che faccio mi avvicino Non lo so scegli tu Vado E' difficile Secondo me devo andare Tre Hanno tutta una bella fortezza eh Ma non li vedi Quelli sono ancora lì giù Li vedi? Sì li vedo Mi sembra di sentire i passi di uno ma Non lo so Forse sono i tuoi stessi Non lo so Ok Si è anche Attaccato alla nuova zona Questa è un'ottima cosa Eh ma lo sono anche loro Comunque sono rimasti in tre Quindi hanno fightato Fede io ci sono più due Sono uno più due Esatto Quindi dico siete rimasti in tre Ho sbagliato a dire sono Però è quello Quindi sono quei due Si O uno e uno Che dici? No no sono quei due purtroppo Oh cavolo Sono uno contro due Sarebbe stato meglio Uno contro uno contro uno Lo so Lo so lo so Così avevo chance di vincere In questo modo Loro stanno facendo una fortezza Non ho neanche grandi cose Non ho neanche grandi cose per distruggerle Cioè stando così Io sono dentro Ok E loro non mi possono sparare Esatto Il che è positivo Allora io mi sparo Un medikit Lo so che sembra sprecato No Sta sparando però eh E allora sono uno No aspetta Forse sta distruggendo dei muri Perché pensa che siano lì Che sono lì Ah Ok Ok dici Si 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 Ha sudato Ah si 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 Vedi Ma allora è un idiota È un imbecille Risolto no? Uh Bellissimo Mi sembra Devi prendere anche l'altro Lo so Io sto zitto Non ti voglio mettere ansia Mi sto per sentire male Tranquilla Sono già in ansia Penso che mi sentirò male In questo momento Occhio occhio No Dovevi costruirti Perché non costruiamo In endgame Perché tanto dovevo correre Io speravo che quelle granate Riuscissi a lanciarle Ma non ce l'ho fatta Non sono arrivate abbastanza distante È perché non ero abbastanza vicino Vabbè bel game Però dovevo bloccare E comunque il fatto che lo restava Perché sennò tornavo a punta a capo Certo 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 Ah Beh bel tentativo Comunque è andata bene Dai Se non fossi morta in quel fight Se non mi avessi lasciato morire Eri morta Dai non ce la facevamo Secondo me Sì che ce la facevamo Secondo me no Guarda Comunque Hai lasciato questa povera fanciulla E i suoi fericotteri Con i suoi fericotteri a morire Capisci? Capisci Stef È una cosa brutta Ragazzi Se non c'è se è tutto Lasciateci un like Questa è la prima volta Che questo nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Poi non perdermi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao